La campagna elettorale in corso per le elezioni amministrative nel comune di Serrara Fontana. Questa mattina incontriamo il candidato sindaco Irene Iacono. Siamo alle ultime battute, ma in questa occasione vogliamo puntare su uno dei luoghi più belli, non soltanto di questo comune, ma anche dell'isola intera. Stiamo parlando del borgo di Sant'Angelo. Irene, buongiorno. Buongiorno. Allora, Sant'Angelo è una cartolina, una bella cosa da vedersi, però non nasconde anche lei i suoi piccoli problemi. In tanti anni di amministrazione le cose avviate e adesso nel vostro programma, una volta eletti, quali saranno le prime cose da fare per rilanciare ulteriormente questo borgo di Sant'Angelo che non serve solo all'economia di Serrara Fontana, ma all'intera isola. Esatto, sì. Buongiorno a tutti. Siamo in questo bellissimo luogo che è Sant'Angelo. Posso dire che è il fiore all'occhiello del comune di Serrara Fontana, ma dell'intera isola d'Ischia. Noi della lista Andiamo Avanti per Serrara Fontana abbiamo un'ampia programmazione per lo sviluppo turistico e economico, ma anche per la crescita sociale di questo borgo incantevole. Intanto, lo potete qui vedere tutti, abbiamo questo meraviglioso porto che grazie al lavoro di tanti anni è tornato nelle mani del comune che attualmente lo gestisce e chiaramente ricava un utile molto importante, utile con il quale si provvede ad erogare numerosi servizi all'interno del comune. Chiaramente il porto ha necessità di essere implementato, bisogna creare dei servizi all'atere. Noi vogliamo appunto creare un marina resort, cioè un'area dedicata a bagni, spogliatoi, docce, un servizio lavanderia e tutto quello che possa appunto rendere più agevole il soggiorno dei diportisti. Chiaramente abbiamo pensato anche ad un ampliamento del porto con la sistemazione di pontili esterni sul lato d'Arsena, proprio perché ci siamo accorti in tutti questi anni che la richiesta dei posti barca diventa sempre più numerosa. Ecco, il porto quindi come volano sicuramente dell'economia di Sant'Angelo. Sicuramente Sant'Angelo però è mare, la spiaggia la stiamo vedendo, ancorché siamo a fine settembre, c'è ancora gente che comunque viene nonostante il tempo un po' incerto. Ecco, l'economia di Sant'Angelo e di Serra la Fontana fonda anche e soprattutto sulla questione balneare, però dobbiamo sempre tenere presente la qualità delle acque. Siamo qui proprio davanti all'impianto di depurazione o di trattamento dei reflui che in diversi anni ha dato problemi, vista anche la vetustà della condotta, più volte si è dovuti intervenire per la sua riparazione. La situazione allora della depurazione di Sant'Angelo così come dell'intero territorio di Serra la Fontana. Che idea avete? Come si può portare avanti e risolvere? Sì, chiaramente l'amministrazione Caruso ha tanto lavorato sul problema della depurazione. Come tutti sapranno, perché Cosa Pubblica, il progetto per la realizzazione del grande depuratore è in fase di conferenza dei servizi, dopodiché sarà possibile indire la gara e procedere. Per cui il nostro compito sarà quello di compulsare sempre di più e di essere attivi e vigilanti affinché tutto l'iter avvenga nel modo più veloce possibile. Per quanto riguarda, è vero, purtroppo la condotta spesso ha bisogno di riparazioni. I tubi sono obsoleti in alcuni tratti, ma Levi, devo dire la verità, si è sempre prontamente resa disponibile alla manutenzione. Pertanto abbiamo cercato sempre di garantire la massima depurazione delle acque nei tratti prospicienti appunto del porto di Sant'Angelo. Per quanto riguarda la depurazione dell'intero comune di Serrara Fontana, noi abbiamo dei mini progetti per la realizzazione di mini depuratori nelle varie zone del comune di Serrara Fontana e così da poter dare anche una risposta immediata ai cittadini in attesa che poi si realizzi appunto il grande depuratore dove poi confluiranno chiaramente tutte le acque. Arrivando a Sant'Angelo, guardando dalle auto o degli autobus tutta la zona che ci porta da Succhivo, fin qua, vediamo anche le cave. Parliamo di Cavagrado, che è il posto terminale degli autobus di linea, c'è anche Cava Ruffano. Più volte si è parlato di una sistemazione di questi luoghi. Voi che idee avete? Allora, su Cava Ruffano e Cavagrado c'è stato già un grande intervento. ci sono stati anche i privati che hanno contribuito alla riqualificazione di queste aree. Chiaramente è intento di tutta la nostra lista mettere mano ad idee di riqualificazione ulteriore di queste zone, perché ci rendiamo conto che al di là della zona portuale di Sant'Angelo che ha dei lidi molto belli, diciamo quelli sono i lidi d'ingresso al paese e chiaramente rientrano in un progetto di qualificazione che riguarda proprio l'ingresso del paese. Io mi rifaccio anche a Cavagrado di sopra, non solo a Cavagrado Lido, ma proprio a migliorare l'accoglienza del turista quando arriva lì. Pensiamo all'installazione di pensiline per poter proteggere i turisti dal sole mentre attendono l'autobus. Pensiamo ad una riqualificazione dei servizi igienici a servizio sia dei turisti ma anche dei lavoratori del settore. Pensiamo anche a far lavorare in condizioni migliori la categoria dei tassisti che d'estate sotto al sole devono lì aspettare per ore e ore. E quindi ecco, eliminare proprio le brutture, sistemarla con fiori, con cestini e dare un'immagine diversa che è quella di impatto quando il turista arriva a Cavagrado e lì già deve avere una cartolina. Le strade di accesso a Sant'Angelo non sono solo queste. Abbiamo l'antica strada che più volte è battuta da tanti turisti che zaino in spalla vi si accedono per scendere e risalire. Anche lì credo ci sia bisogno di una riqualificazione, di una manutenzione adatta, appropriata. Esatto, sì, sì. Parliamo di via Sant'Angelo che è la strada che da Serrara porta qui direttamente a Sant'Angelo. È una strada bellissima, anzi invito tutti quelli che ci ascoltano una volta nella vita almeno a farla perché è veramente spettacolare. Lì c'è bisogno di piccoli interventi in realtà, c'è bisogno di alcuni passamano nelle zone un po' più pericolose, c'è bisogno però di una pulizia costante e c'è bisogno anche di un po' di illuminazione in modo che possa essere percorribile poi anche di sera, un po' di illuminazione in più. Vediamo dietro di noi quella che abbiamo definito all'inizio una cartolina. In realtà di sera con le illuminazioni è un presente. Sono tante abitazioni, tante località, tanti luoghi, tanti esercizi commerciali, tanti alberghi che sono anche da parte superiore, fin su alla chiesa di San Michele ed oltre. Anche per questo è una riqualificazione urbana, una sorta di maquillage che va fatto ovviamente di concerto con il privato ma è l'amministrazione che deve dettare le regole e dare il là. Esattamente, la riqualificazione delle stradine interne di Sant'Angelo è uno dei punti prioritari del nostro programma. Anche lì installare delle panchine dove poter godere dei panorami, degli scorci più belli che Sant'Angelo ci offre, aver cura di posizionare dei cestini lungo le varie stradine in modo da mantenere il paese sempre pulito, dare la giusta illuminazione perché non basta illuminare ma bisogna dare la giusta illuminazione affinché si crei anche un'immagine suggestiva di questi luoghi. Ecco, quindi un'attenzione capillare, il rifacimento di muretti, l'installazione di passamano laddove diciamo ci sono dei punti più pericolosi. Ecco, ma tutto questo, la riqualificazione di Sant'Angelo avverrà sicuramente di concerto con gli imprenditori. Infatti subito dopo le elezioni ci si siederà ad un tavolo di confronto con tutte le categorie di settore per capire Sant'Angelo in quale direzione deve andare e vuole andare. Ecco, tutti insieme per la crescita di questo bellissimo luogo. Diciamo un'altra cosa, a livello di occasioni di lavoro, Sant'Angelo è un po' anche il crocevia di passaggio che trasferisce e collega con altre due località molto importanti di questo lato sud della nostra isola, ma ronti da una parte, soggetto dall'altra parte. Quindi c'è il servizio di taxi boat che viene utilizzato ed è ancora in questo momento utilizzato. Quindi è anche questa un'occasione ulteriore di sviluppo e di introito di gente che lavora, di famiglie che lavorano e che possono fare economia. Esattamente, questo è un servizio storico della tradizione sant'angiolese, ma è un servizio unico direi, perché è veramente suggestivo fare queste tratte a bordo di queste piccole barche che traghettano i turisti verso le mete desiderate. Quindi sicuramente è nostra intenzione aiutare ed implementare questo servizio, migliorarlo sempre di più, avendo sempre più dialogo con la cooperativa dei taxi boat, perché questa è una reale opportunità di lavoro, di sviluppo. È un'opportunità per tutti, diciamo, quelli che vogliono anche affacciarsi al mondo del lavoro. Ecco, noi in questo territorio, se abbiamo le capacità di fare delle azioni ben precise, ci sarà lavoro per tutti, perché Sant'Angelo è una risorsa, come dicevo prima, non solo per il comune di Serrara Fontana, ma poi come immagine anche per tutta l'isola. Questa è in sintesi la visione che Irene Iacono, sindaco, ha di Sant'Angelo con i suoi amici. Irene, allora, ultimi secondi per dare un appello ai tuoi concittadini, soprattutto per ancora gli indecisi che non hanno ancora ben chiare le idee su cui apporre la propria preferenza. La teoria, la teoria, la teoria, la teoria. Esatto, io chiedo a tutti i cittadini di Serrara Fontana, il 3 e il 4 ottobre, di votare Irene Iacono e di votare la lista, andiamo avanti per Serrara Fontana, perché c'è la volontà di far crescere il paese, di far sviluppare questo territorio bellissimo e di amministrarlo nel modo più trasparente possibile. Quindi veramente io mi affido al buon cuore di tutti i cittadini che hanno a cuore lo sviluppo e il benessere della nostra Serrara Fontana. Il 3 e il 4 ottobre, votate per la lista, andiamo avanti per Serrara Fontana. Grazie.